Musica Bentornati e buona giornata da Meteo One. La bassa pressione comincia pian piano ad indebolirsi, ma insisteranno ancora fenomeni più o meno diffusi su gran parte del centro-sud Italia, mentre sull'Europa centro-occidentale e sul nord Italia persisterà lo scudo anticiclonico, favorendo condizioni di bel tempo. Ma andiamo ora a vedere il tempo sulle nostre regioni per venerdì 9 settembre. Su Gargano, Estremo Salento e coste adriatiche, al mattino il cielo si presenterà coperto con deboli piogge, meglio sulle restanti regioni. Durante la giornata le precipitazioni andranno ad interessare maggiormente Potentino, zone interne del Materano e della Puglia, nuvoloso o poco nuvoloso invece lungo tutte le coste adriatiche pugliesi. Il miglioramento ovunque dalla sera. Le temperature, come vediamo dalla grafica, risulteranno in aumento ovunque, sia nelle massime che nelle minime. I venti, moderati dai quadranti orientali lungo le coste pugliesi, nelle zone interne i venti risulteranno più deboli. Mari da molto mossi ed agitati su tutti i settori. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Paolo Tortosa, che ci manda la bellissima opera artistica della Basilica di Manfredonia. Se volete inviarci la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappola, oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella puntata di domani. Grazie per l'attenzione e vi auguriamo buona giornata. Grazie per l'attenzione e vi auguriamo buona giornata.